Ciao Ricky, come stai? Ciao Max, tutto bene? Come ti trovi ad allenarti nel centro? Io mi trovo bene, ho trovato sempre benissimo, da quando ho micchiato ho perso 10 chili con l'autostanza, anche quello, orari flessibili per venire in palestra, sempre disponibili. E cosa ne pensi dei servizi del centro? I servizi del centro sono buoni, strutturati bene, torno agli orari molto flessibili, i festivi si può venire in palestra. Grande Ricky, allora io direi che possiamo fare il nostro saluto, vivi in forma, ti saluto e vivi tonico! Grazie!